molto volentieri, sono i giovanissimi componenti del gruppo folk della Proloco Saroda di Siurgus Donigala. Un bell'applauso per questa formazione che arriva dall'Alta Marmilla, un centro che varca i 2000 abitanti e l'attuale comune di Siurgus Donigala, costituito nel 1927, in realtà nasce dall'unione di due centri fino a quel momento distinti, località autonome appunto Siurgus Donigala, suggestivo in lago Mulargia, ma suggestivo anche su Nuraghi, questo Nuraghe all'interno del centro abitato. Siurgus davvero è un luogo che ti sa ospitare quando ci sono le feste, ma anche nelle mille occasioni in cui ti capita di incontrare i suoi abitanti. Io sono molto contento che questa sera siano i giovanissimi di questa associazione a rappresentare una comunità importante come Siurgus Donigala, anche perché in loro c'è la forza del futuro delle tradizioni, la speranza che il nostro esistere attraverso il passato possa essere garantito da questi giovani che adesso sorridono, perché io voglio un bel sorriso da parte di tutti voi. Sorriso e applauso che noi estendiamo anche a beneficio di Gianluca Boi, un forte abbraccio a questo giovane che abbraccia a sua volta una fisarmonica che spandirà i suoni per questo ballo, su Ballu de Ogai, a passo campidanese. Siurgus Donigala, Sarroda. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.